questo metodo di calcolare mediante in eros senza considerare il segreto in cui gli antichi filosofi che appartenevano esclusivamente all'ordine sacerdotale tenevano le loro conoscenze fece sorgere grandissimi errori esso fece credere agli ebrei come ad alcuni platonici cristiani che il mondo sarebbe stato distrutto al termine dei 6.000 anni Gale dimostra come questa credenza fosse profondamente radicata negli ebrei essa ha anche indotto gli scienziati moderni a screditare totalmente le ipotesi degli antichi e ha fatto sorgere diverse sette religiose che come gli avventisti del nostro secolo vivono sempre nell'aspettativa della prossima distruzione del mondo poiché il nostro pianeta gira ogni anno attorno al sole e gira una volta ogni 24 ore attorno al proprio asse attraversando così cicli minori all'interno di un ciclo più grande l'opera dei periodi ciclici minori viene compiuta e ricominciata entro il grande saros la rivoluzione del mondo fisico secondo l'antica dottrina è accompagnata da un'eguale rivoluzione nel mondo dell'intelletto così l'evoluzione spirituale del mondo procede per cicli come l'evoluzione fisica di conseguenza vediamo nella storia un regolare alternarsi di flusso e riflusso nella marea del progresso umano i grandi regni e imperi del mondo dopo aver raggiunto il culmine della loro grandezza scendono nuovamente in accordo alla stessa legge che li ha fatti salire finché raggiunto il punto più basso l'umanità si riafferma e sale ancora ad un'altezza che per questa stessa legge di progressione per cicli è un poco superiore a quella da cui era discesa la divisione della storia umana in età d'oro d'argento di bronzo e di ferro non è una finzione vediamo la stessa cosa nella letteratura dei popoli un'epoca di grande ispirazione di produzione inconscia è invariabilmente seguita da una di critiche di coscienza la prima porta materiale per le analisi e la mentalità critica della seconda così tutte le grandi figure che torreggiano come giganti nella storia umana come buddha siddharta e gesù nel regno dello spirito e alessandro il macedone e napoleone nel regno delle conquiste fisiche non furono che immagini riflesse di tipi umani esistiti diecimila anni prima nel decamillennio precedente riprodotte dai misteriosi poteri che controllano i destini del nostro mondo non vi è un personaggio eminente in tutti gli annali della storia sacra e profana il cui prototipo non si possa ritrovare nella tradizione per metà fittizia e per metà reale delle antiche religioni e mitologie come le stelle che scintillano ad incommensurabili distanze sopra di noi nell'infinita immensità del cielo si riflettono nelle acque calme di un lago così le immagini degli uomini dell'epoche antidiluviane si riflettono nei periodi che noi possiamo abbracciare nella retrospettiva storica come in alto così in basso ciò che è stato tornerà ancora come in cielo così in terra il mondo è sempre ingrato verso i suoi grandi uomini firenze ha eretto una statua galileo ma ricorda appena pitagora il primo ebbe una guida sicura nei trattati di copernico il quale fu costretto a lottare contro il sistema tolemaico universalmente stabilito ma né galileo né l'astronomia moderna hanno scoperto la postazione dei corpi planetari migliaia di anni prima di loro essa era insegnata dai sapienti dell'asia centrale da dove pitagora la portò non come speculazione ma come scienza dimostrata i numeri di pitagora dice porfirio erano simboli geroglifici con i quali egli spiegava tutte le idee relative alla natura delle cose dunque in verità solo all'antichità dobbiamo rivolgerci per conoscere l'origine delle cose hargrave jennings si è espresso perfettamente parlando delle piramidi e le sue parole sono assolutamente vere quando egli domanda è forse ragionevole concludere che in un periodo in cui la conoscenza era il suo sommo e i poteri umani erano paragonati ai nostri prodigiosi tutti questi insuperabili e appena credibili effetti fisici come le imprese degli egiziani siano stati consacrati ad un errore è ragionevole credere che miriadi di uomini del nilo fossero dei folli che operavano al buio che tutta la magia dei loro grandi uomini fosse inganno e che solo noi disprezzando ciò che chiamiamo la loro superstizione e la loro sperperata potenza si sia nel vero no con ogni probabilità vi è molto di più in quelle antiche religioni di quanto nell'audacia della negazione moderna nella sicurezza di questi tempi di scienza superficiale e nella dirisione di questi nostri giorni senza fede non sia supposto noi non comprendiamo l'antichità così vediamo come possano conciliarsi le pratiche classiche e gli insegnamenti pagani come perfino gli ebrei e i gentili la dottrina mitologica e la dottrina cristiana si accordino nella fede generale fondata sulla magia che la magia sia in realtà possibile è la morale di questo libro 30 anni fa quando i primi picchi di rochester risvegliarono la sonnecchiante attenzione per la realtà di un mondo invisibile quando il modesto flusso di picchi divenne gradualmente un torrente che si riversò sull'intero globo gli spiritisti dovettero lottare solo contro due potenze la teologia e la scienza ma i teosofi hanno dovuto far fronte oltre che a queste al mondo in generale e agli spiritisti in particolare il predicatore cristiano tuona vi è un dio personale e vi è un diavolo personale sia anatema chi osa negarlo risponde sdegnosamente il materialista non vi è alcun dio personale eccetto la materia grigia del nostro cervello e non vi è alcun diavolo chi lo afferma è un triplice idiota frattanto gli occultisti e i veri filosofi non fanno attenzione né all'uno né all'altro dei due combattenti ma perseverano nel loro lavoro nessuno di loro crede nell'assurdo passionale e volubile dio della superstizione ma tutti loro credono nel bene e nel male la nostra ragione umana emanazione della nostra mente limitata è certamente incapace di comprendere un'intelligenza divina un'entità illimitata ed infinita e secondo la stretta logica ciò che trascende la nostra comprensione e rimane interamente incomprensibile per i nostri sensi non può esistere per noi quindi non esiste fin qui la ragione limitata concorda con la scienza e dice dio non esiste ma dall'altro lato il nostro ego quello che vive pensa e sente indipendentemente da noi nel nostro scrigno mortale fa qualche cosa di più che credere esso sa che esiste un dio nella natura perché il sole ed invincibile artefice di tutto vive in noi e noi viviamo in lui nessuna fede dogmatica e nessuna scienza esatta può sradicare questo sentimento intuitivo inerente nell'uomo quando esso lo ha pienamente sperimentato in se stesso è stato un'esercizio è stato un'esercizio